per ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti a un nuovo video oggi ragazzi insieme a voi voglio cercare di snocciolare veramente tutto quello che c'è dietro la scelta di usare un artificiale col mono amo al posto delle ancorette mi spiego meglio è una domanda che mi viene fatta frequentemente come proporzionare il mono amo a un artificiale che viene venduto con le ancorette quale mono amo scegliere se e come montarlo oggi cercherò di schematizzare un goccio perché come potete ben capire è un discorso molto molto ampio c'è da dire assolutamente in primis che la scelta di montare un artificiale con il mono amo piuttosto che con l'ancoretta può essere una esigenza molto spesso può essere anche un obbligo perché in acqua dolce alcune regioni e alcune zone richiedono l'utilizzo del mono amo alle volte non solo il mono amo semplice ma anche il mono amo senza l'ardiglione qua nascono poi di tutti i problemi che ne sosseguono perché chiaramente il mono amo senza l'ardiglione ha una facilità di slamatura solitamente se il mono amo non è stato studiato o progettato bene maggiore rispetto all'ancoretta o sicuramente al mono amo con l'ardiglione partiamo subito dall'esempio classico il mono amo solitamente lo troviamo già montato o in dotazione di alcuni artificiali per lo spinning di piuttosto grosse dimensioni per grossi predatori perché perché dovete pensare e sapere che l'ancoretta è vero che ha più punti di presa perché ha tre punte mentre invece il mono amo ne ha uno solo però il mono amo ha una curva molto più larga solitamente il file molto più spesso quindi solitamente si suppone che quando un pesce abbia in bocca un amo singolo di medie grandi dimensioni siamo sicuramente più tutelati perché possiamo giocarci un po più un po più di tempo senza avere il problema della slamatura quasi mai quasi mai ora poi capirete perché vi faccio tutte queste piccole appendici nel discorso quindi questo è una delle motivazioni l'altra motivazione invece potrebbe essere una motivazione di natura obbligatoria o di natura personale per etica perché spesso e volentieri nello spinning fortunatamente soprattutto anche in acqua dolce il caccia e release è sempre più diciamo fatto quindi moltissimi di noi quando vanno a pescare in acqua dolce non solo amano pescare il pesce fare una bella foto al pesce nel modo giusto liberarlo vi dico subito ragazzi che questo vuole essere anche un po' un segnale di questo video se doveste decidere di rilasciare un pesce pescato dovete anche preoccuparvi di rilasciarlo nel modo giusto e dobbiamo anche cercare di creare il danno minore al pesce che comunque si ritroverà con un forellino sul labbro e quindi dobbiamo cercare di utilizzare ami che siano molto pungenti che nel momento del rilascio non lasciano un foro troppo grande che poi può creare problemi al pesce ecco perché vi dico se la vostra intenzione è già quella di fare il caccia e release al di là dell'obbligo che ci può essere o non ci può essere facciamo nel modo giusto con gli ami giusti quindi questo video vuole essere innanzitutto un segnale per quello ma soprattutto vuole farvi vedere intanto come faccio io a proporzionare il mono amo cioè io compro ad esempio in questo video vi farò vedere una serie di ami molto belli molto studiati che ora vi faccio vedere è una serie di artificiali che ho dovuto portare della stessa serie che sono i rapala countdown elite serie secondo me clamorosa usatissima veramente da tutti ultimamente oltretutto non ve l'ho ancora fatto vedere mi è arrivato il piccolo della famiglia perché è arrivato il countdown elite 3 e mezzo che è veramente qualcosa di eccezionale una serie di artificiali è andata a vedere la mia recensione molto fortunata perché incontra moltissimo il mercato soprattutto dell'acqua dolce senza dubbio ma anche del mare nella misura del 9 e vi faccio vedere quindi come proporzionare questi ami come montarli qualora l'hard bait abbia la doppia ancoretta senza mai dimenticarci di quello che è l'utilizzo dei cucchiaini rotanti come ad esempio i classici vecchi maps che sembra ritornare un po' in auge anche lì il maps nasce con l'ancoretta ma si può montare con un mono amo lì è molto più semplice secondo me trovare il mono amo giusto perché il maps ad esempio rotante o comunque tutti i rotanti hanno questa paletta che gira sull'asse e di conseguenza diciamo che non si sbilanciano anche se sbagliamo un goccino la misura molto delicato invece al bilanciamento degli artificiali vi farò vedere con questa serie di ami che la bkk native 12 bl ss e ora poi ve lo racconto vi voglio far vedere questo amo per farvi vedere anche quanto alle volte dietro un singolo amo montato ad assist quindi con un assist ora ci arriviamo c'è dietro tanto lavoro questo è un progetto che parte dall'amico dal collaboratore perché ci lavoro insieme è assolutamente amico perché una persona squisita marco rossi di cogitec è un fornito mio fornitore diretto e distributore ufficiale di bkk questo è un suo progetto ha messo ci ha messo due anni di progetti di prove eccetera eccetera per costruire questo semplicissimo apparentemente amo cercando di trovare tutto quello che nel mono amo andava a infierire sulla presa di un pesce cercando di modificarlo fino appunto di trovare qualcosa devo dire di quasi perfetto direi che questo è un amo che oltretutto oltre alla sua funzionalità dà un senso a qualsiasi delle sue parti e con voi oggi voglio appunto farvele vedere partiamo subito facendovi vedere quello che vi ho preparato qua intanto questi sono i rap alla countdown elite partiamo dal 3 e mezzo e così via a salire fino al più grosso che al 9 e da questa parte troviamo questa meravigliosa serie che è il native 12b lss sta per super slide perché c'è stato anche un lavoro accurato nella scelta del nostro materiale per far sì che sia un materiale veramente pungente a livello veramente altissimo ma nello stesso tempo molto forte con una curvatura giusta eccetera eccetera allora innanzitutto vi faccio vedere come proporzione io un mono amo compro un rap alla countdown con le ancorette e voglio provare questa esperienza del mono amo benissimo ne montiamo uno in questo modo chiaramente questi mono ami sono diciamo allestiti già con uno split che però troviamo già sul nostro artificiale quindi uno dei due lo dobbiamo togliere il mono amo io solitamente lo proporzioni in questo modo così faccio sì che di trovare un amo che abbia quasi l'apertura un po' scarsa di due parti dell'ancoretta come vedete le due punte dell'ancorette sono qua io cerco di trovare un amo che dal gambo alla punta quindi questo spazio sia largo quanto quasi un po' scarso le due punte dell'ancorette così avete già un qualcosa che vi fa sbagliare poco il fatto che poi l'amo sia più basso più alto rispetto al nostro artificiale non sempre è di così particolare importanza però questo è il modo che io faccio per trovare la misura giusta dopodiché se abbiamo un artificiale con due ancorette l'amo anteriore io lo posiziono in questa posizione quindi con la punta sul muso del nostro artificiale quello posteriore al contrario lo monto chiaramente in questo modo perché credo essere il modo più giusto più prensile per fare la nostra attività di pesca inoltre cosa deve fare l'artificiale e l'amo sull'artificiale deve rimanere assolutamente in linea col corpo dell'artificiale stesso quindi deve rimanere in questa posizione come vedete in questa posizione non deve rimanere in questa posizione non deve rimanere in questa posizione ma sempre in questa posizione quindi è stato fatto un attento lavoro di assist in questo caso vi ho portato anche prima anzi vi faccio vedere questo questo è un sergent vedete che l'occhiello è in linea col gambo li conoscete ormai tutti quelli che di voi fanno spinning una volta montato questo rimane perfettamente in linea con la nostra esca in questo modo vedete quindi ipotizziamo che l'ancoretta non ci sia il nostro amo rimane esattamente in questa posizione benissimo in questo caso abbiamo però un amo che rimane in questa posizione ma come vedete ha qualcosa qua è un assist quindi abbiamo un cordino che tiene il nostro split in questo caso lo split attaccato all'occhiello in questo caso al cordino perché è stato studiato questo sistema perché in questo caso l'amo su se stesso non ruota cioè ha una rotazione di mezzo giro da un lato e mezzo giro dall'altra parte se parliamo di pesci come potrebbero essere ad esempio le trote che quindi quando le incanniamo le portiamo a guadino saltano e ruotano su se stesse un mono amo è molto falloso quasi il 50 il per cento 40 50 per cento dei pesci vengono slamati anche se lo teniamo sempre in tensione perché quando il pesce ruota l'amo ruota ma fino a un certo punto di più non gira a insegnarci questo trucco di far ruotare il mono amo su un artificiale che ne sappia io e la palms fa artificiali che attaccati al corpo dell'artificiale hanno una girella quindi l'artificiale ruota assolutamente in modo infinito su se stesso quando il pesce ruota lui scarica questa torsione in questo caso il mono amo è funzionalissimo ma non ruota su se stesso quindi il nostro Marco che cosa ha pensato ha detto aspetta un attimo come posso fare sugli artificiali che non hanno una girella a far ruotare almeno di qualche giro questo amo ha fatto questo ve lo faccio vedere di nuovo da vicino ha montato un amo a paletta quindi di assoluta altissima qualità con un cordino che apparentemente è rigido e deve rimanere rigido perché l'amo deve rimanere sempre in asse come vedete ok al nostro pesciolino ma quando il pesce mangia e ruota su se stesso o salta l'amo non fa solo mezzo giro ma fa un giro completo e anzi in questo caso su tutti gli assist ne fa un e mezzo quasi due quindi questo fa sì che quando il pesce ruota non si vada a slamare in questo caso la serie 12 bl non ha l'ardiglione come vedete non ha l'ardiglione sulla punta perché credo che siano gli ami diciamo tra i più giusti da usare per i nostri pesci d'acqua dolce e soprattutto le trote nasce proprio questo il nome native proprio per la trota silvatica per la pesca della trota torrente in modo molto selvatico laddove spesso e volentieri il caccia release è consentito e anzi è apprezzato anche dal sottoscritto come sapete quindi è giusto trovare un amo che punga bene eccetera eccetera quindi con questa struttura si è cercato di riuscire a far sì che l'amo rimanga in linea con l'artificiale in pesca quando il pesce mangia lui ruota e quindi le slamate si riducono veramente al minimo anche su un amo senza ardiglione abbiamo un amo che è molto filante nella sua costruzione quindi quando lo togliamo dal pesce rimane un buco minimo e il nostro pesce va via quasi come se non se ne fosse accorto e non solo c'è un discorso attento anche di bilanciatura ritorniamo all'inquadratura da vicino su questo amo come vedete c'è una verniciatura una legatura che poteva essere fatta molto più piccola la domanda sì assolutamente sì ma questa legatura fatta e verniciata poi con la bicomponente che utilizziamo anche sugli anelli delle canne e che voi avete che voi utilizzate da un peso e questo peso va a coprire e a ricoprire quello che è il peso di un ancoretta perché arrivati a questi punti un amo di questa dimensione rispetto a un ancoretta di questa dimensione con il suo split andava a pesare molto 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 meno quindi l'amo pesava meno e non è detto che l'amo pesando meno faccia sì che l'artificiale lavori meglio dovete pensare che le aziende che costruiscono artificiali e la rapala qua ce l'ha insegnato nella storia di rapala e testano e lavorano su veramente parti di grammo per far sì che l'artificiale venga ben bilanciato e per quello che noi quando consigliamo di cambiare le ancorette consigliamo di cambiarle o con le stesse o con ancorette analoghe né più leggere ma neanche più pesanti in questo caso il mono amo risultava essere ahimè troppo leggero quindi questa piccola legatura e questa verniciatura abbondante ripristina di nuovo il peso dell'ancoretta e il pesciolino riesce a muovere benissimo senza nessun problema tutto questo chiaramente è da dire e da valutare sempre facendo riferimento ad artificiali in questo caso con la doppia ancoretta ma ad artificiali che noi vogliamo nel senso tenere bilanciati non artificiali perché di artificiali si tratta come ad esempio vi diceva all'inizio i cucchiaini rotanti il cucchiaino rotante ha comunque meno questo problema del bilanciamento possiamo permetterci di mettere un amo un po più grande vi ricordo che l'amo chiaramente non è quella cosa che seleziona il pesce ma l'amo è quella cosa che ci fa portare il pesce a guadino e vi ricordo anche che chi fa caccia in release i pesci comunque non li deve slamare laggiù in fondo chi fa caccia in release per completare per chiudere il cerchio deve portare il pesce a guadino quella è l'operazione della pesca completamente definita spesso e volentieri mi diceva il nostro marco che ha provato per in modo estenuante questi ami spesso e volentieri mi diceva il nostro marco che questi ami slamano praticamente da solo il pesce 99 su 100 quando è nel guadino questo proprio è chiaro ed evidente fatto che lo dobbiamo tenere sempre bene in tiro e con questo sistema riusciamo a portare il pesce a guadino ma se si slama in modo naturale vuol dire che il danno al pesce è veramente poco torniamo un attimino a noi questa serie di ami ve lo voglio dire perché è molto interessante vengono prodotti dal numero 1 al numero 6 che è il più piccolo che è questo che vi faccio vedere in questo caso e proprio il numero 6 potrebbe andare bene su un artificiale come potrebbe essere in questo caso il 5 e mezzo countdown forse un po' grossino per questo 3 e mezzo che è veramente una chicchetta e questo è veramente un artificiale che non vi ho fatto neanche vedere ancora ma poi magari faremo un medio short video per farvelo vedere per farvelo raccontare sul quale un amo come ad esempio il numero 6 ha un assist molto molto corto ve lo voglio fare vedere perché siamo nel pieno discorso di questi ami quindi facciamo una cosa bella completa come vedete anche in questo caso l'amo al nostro assist attaccato eccolo qua scusate questo anche lui ruota di un giro e mezzo tranquillamente così praticamente in linea ok col nostro artificiale e lui quindi riesce a ruotare di un giro e mezzo quasi due su se stesso senza nessun problema è un assist molto molto resistente ritorna poi in sede rimane assolutamente in linea con quello che deve rimanere e in questo caso come vedete un pelino forse grande ma ci potrebbe stare secondo sempre quella che è la mia misurazione vi ricordo come vedete che è leggermente più piccolo anzi a vederlo così vi dico proprio che ci sta bene il fatto che sia più lungo non dà assolutamente nessun tipo di fastidio anche qua troviamo la goccia di colla un pochettino più marcata proprio a chiaro e evidente fatto che vuole ripristinare il peso di questi meravigliosi artificiali e quindi a questo punto il mono amo anche nella pesca d'acqua dolce vi ho voluto fare vedere quanto deve essere studiato e quali sono le motivazioni per cui tutto questo deve funzionare sottolineo una cosa questo sistema dell'assist lo potete trovare pronto in questi ami fatti in modo eccellente a un costo devo dire neanche più di tanto notevole ma lo potete fare anche voi quindi se voi vi diciamo procurate un amo perché a voi piace la forma con l'occhiello o senza l'occhiello cambierà la legatura fate una cosa del genere con un assist molto corto e montate poi uno split chiaramente fisso da montare direttamente su un altro artificiale vi ritrovate assolutamente con un amo che ha questa funzionalità quindi possiamo portare a casa anche poi il consiglio in questo caso di Marco e della stessa BKK è chiaro ed evidente che quando invece lavoriamo su un amo diciamo grosso quindi quando montiamo un mono amo sergent su un artificiale che che sia certo che c'è da valutare anche il fatto che con un 3-0 un 4-0 con l'ardiglione la slamata è sicuramente più diciamo rara e è più difficile che accada bene a questo punto ragazzi grazie per essere stati con noi spero che questo video vi abbia fatto piacere mi faceva piacere parlare di queste cose mi fa sempre piacere con voi fare questa sorta di tutorial per passare qualche minuto insieme continuate a seguirci sui nostri social se vi è piaciuto il video mettete un like condividetelo iscrivetevi al canale attivate le notifiche a questo punto io e tutto il mondo dei mono ami sergent eccetera eccetera vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia convoi che la pesca sia convoi